Ben ritrovati al Salone del Risparmio 2019, sono in compagnia di Francesca Colombo di Etica SGR, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, chi meglio di Etica, che cosiddetto nomenomen, condensa fin dalla propria nascita, quelli che sono i criteri ISG che sono alla base di questa edizione del Salone e di tutto un trend legato all'industria del risparmio gestito. Cosa possiamo dire rispetto a questa vostra vocazione regata all'ISG? Sì, in effetti possiamo dire che Etica SGR è pioniere da sempre in questo settore, almeno nel mercato italiano. Quindi siamo contenti che i temi ISG siano diventati, passatemi il termine, mainstream per tutta l'industria del risparmio gestito, tale da dare una fil rouge a questa edizione 2019 del Salone e possiamo dire che noi facciamo investimenti sostenibili e responsabili basati sugli elementi ISG da sempre. Ci abbiamo sempre creduto. Per noi questo è il modo di fare finanza ed è questo il modo di fare risparmio. Quindi un risparmio innovativo, un risparmio inclusivo, un risparmio sostenibile e un risparmio responsabile. Quindi abbiamo un modello che presuppone l'analisi delle società basate su una metodologia che poi nel corso degli anni ovviamente si è affinata, una metodologia che integra elementi di natura ambientale e sociale di governance nell'analisi classica finanziaria tradizionale. Facciamo anche engagement che è un'altra potentissima arma in mano agli investitori per permettere alle società in cui investiamo di migliorare il proprio comportamento sempre in ambito ambientale, sociale e di governance. Vi siete anche occupati recentemente di un report attraverso il quale misurate anche proprio l'impatto. Come avviene? Esatto. Abbiamo voluto chiudere un po' il cerchio, nel senso che partiamo da una selezione ex-ante degli investimenti in base a elementi di natura ISG. Abbiamo poi la costruzione del portafoglio e poi ci siamo detti, ok, ma l'impatto degli investimenti qual è e come facciamo a misurarlo? E quindi abbiamo creato una metodologia interna da un paio d'anni che va a misurare l'impatto degli investimenti azionari rispetto al mercato di riferimento avendo come benchmark gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Quindi le stesse tematiche che guidano l'analisi ex-ante guidano anche la misurazione dell'impatto. Abbiamo creato e pubblicato il report d'impatto che lo potete trovare anche sul nostro sito internet e da lì si evince come, secondo alcune metriche, gli investimenti azionari di etica SGR rispetto al mercato hanno un impatto più positivo. Per esempio, sull'ambiente, il tema del cambiamento climatico che è un tema molto attuale, possiamo dire che abbiamo un delta positivo rispetto al benchmark del 49% in termini di società che hanno definito obiettivi pluriannali di riduzione delle emissioni climalteranti. Oppure, volendo guardare la sfera social, che è una sfera un po' ancora dimenticata dal mondo ISG o dal mondo SRAI, possiamo dire che i nostri fondi hanno società che hanno creato posti di lavoro per un 202% in più rispetto al mercato di riferimento. Questo è un altro dato molto importante perché il tema anche dell'inclusion e della diversity in generale sono entretanto centrali. Ha citato prima la questione del cambiamento climatico che è un tema attualissimo e anche adesso fortunatamente se ne parla anche attraverso tutto il movimento collegato a Greta Thunberg. Ecco, voi però anche qui in tempi non sospetti, in ambito climate change, state lavorando proprio con la creazione di un fondo, è vero? Sì, assolutamente sì. Diciamo che l'ambiente, il cambiamento climatico è sempre stato una componente significativa delle nostre analisi e della nostra strategia di investimento. Però, cogliendo proprio, come dici tu, il momento storico, il momento importante e delicato che stiamo vivendo proprio in termini di cambiamento climatico, abbiamo pensato di creare un fondo ad hoc, come correttamente dicevi tu. Quindi nell'ottobre del 2018 abbiamo lanciato il nostro sesto fondo di investimento, Etica Impatto Clima, che è un fondo bilanciato che va ad investire in realtà, imprese e governi, che si sono impegnati verso la transizione energetica, ovvero i migliori dal punto di vista di un'economia a basso impatto di carbonio. E questo è importante sempre sottolinearlo perché in questo periodo in particolar modo, visto che se ne parla tantissimo. Io ringrazio nuovamente Francesca Colombo per essere stata con noi e non mi resta che lasciare la linea allo studio.